Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects, il meraviglioso software di casa Adobe per creare grafica animata, effetti speciali, titoli e chi più ne ha più ne metta. Prima di continuare con la lezione di oggi, oggi tra l'altro parleremo di una cosa molto divertente per chi non ha mai usato After Effects e sta muovendo i primi passi con questo software, parleremo dei keyframe e di come creare la nostra prima animazione. Dicevo, prima di iniziare questo video tutorial, però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete ovviamente l'indice con tutti gli argomenti di questo corso base introduttivo ad After Effects ma troverete anche il corso dedicato ad Adobe Premiere Pro per chi vuole muovere i primi passi nel meraviglioso mondo del montaggio. Se vi fa piacere vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere ovviamente anche i prossimi video tutorial e venite a cercarmi su Facebook perché la pagina da cercare è Fabio Ambrosi. Lì tutte le novità dei corsi, gli aggiornamenti, più in là faremo anche qualche sessione live di video tutorial qui su YouTube quindi daremo informazioni dettagliate sulla pagina Facebook, mettete il like e teniamoci aggiornati. Bene, dicevo, torniamo a noi, torniamo ad After Effects. Questo è un corso introduttivo, lo ripeto, per chi già è esperto e sa utilizzare questo software è inutile che perde tempo qui. Il corso è rivolto a chi non ha mai utilizzato questo bellissimo software Adobe, vuole muovere i primi passi. Quindi lo dico subito perché le informazioni che darò sono veramente molto 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 base, ovviamente, no? Non tutti sanno utilizzare questo software, quindi partiamo proprio dai concetti fondamentali. Dicevo, parliamo di animazione, parliamo di fotogrammi chiave, o meglio, parliamo di keyframe. Che cosa sono i keyframe? Come si crea un'animazione? Cosa c'è da sapere prima di creare un'animazione in After Effects? Bene, iniziamo con questa prima parte del video tutorial, nella seconda parte vedremo come creare un'animazione in After Effects. In questa sezione, in questo video, vedremo che cosa sono i keyframe e cosa c'è da sapere per creare un'animazione in After Effects. Dunque, i keyframe, cosa sono? Dunque, la parola keyframe è un termine inglese che viene tradotto in italiano con fotogramma chiave. Keyframe, fotogramma chiave. Un fotogramma chiave non è altro che un fotogramma più importante degli altri. Come ho scritto nell'articolo di questa lezione disponibile sul sito, un'animazione, un video, un filmato che viaggia ad una velocità di 25 fotogrammi per secondo, in 10 secondi conta ben 250 fotogrammi. In 100 secondi, quindi un minuto e 40 secondi, ci sono ben 2500 fotogrammi. In After Effects, ma in qualunque software che crea animazioni, in generale, nella computer grafica e nella motion graphics, non tutti i fotogrammi sono importanti, non tutti i 250 fotogrammi hanno valore, non tutti i 2500 fotogrammi o le centinaia di migliaia, milioni di fotogrammi che compongono un film sono importanti. Alcuni fotogrammi sono più importanti degli altri e vengono appunto chiamati fotogrammi chiave, keyframe. Cosa hanno di speciali questi fotogrammi? Beh, sono fotogrammi che memorizzano delle informazioni particolari su determinati oggetti, che sono oggetto, scusate il gioco di parole, dell'animazione in cui sono coinvolti. Non è molto chiaro, detto così. Guardate, facciamo un esempio pratico, così capiamo subito dove voglio andare a parare. Allora, qui ho una semplice animazione di un pallone. Questo pallone si muoverà da sinistra verso destra. Andiamo in play, vediamo che succede. Ecco qua, proprio come mi aspettavo. Il pallone si è mosso da sinistra verso destra. Com'è avvenuta questa animazione? È avvenuta grazie a due fotogrammi chiave. Eccoli qua in After Effects. Li vediamo perché sono contraddistinti, contrassegnati da un diamantino. Tra poco, nel prossimo video, vedremo come crearli, vedremo nel dettaglio la procedura per creare l'animazione. Parliamo però e concentriamoci su questi due fotogrammi chiave. Il primo fotogramma chiave, questo, è particolare, è chiave, perché memorizza l'informazione della posizione del pallone in questo preciso momento temporale. Vale a dire, qui ci troviamo al frame 59, quindi a 2 secondi e 9 frame, perché stiamo lavorando a 25 fotogrammi per secondo. In questo esatto momento temporale, questo fotogramma chiave, ha memorizzato la posizione del pallone, che si trova esattamente alle coordinate 279x360. Perfetto. After Effects sa questo. Il pallone, in questo momento temporale, al frame 59, deve trovarsi lì. Punto. Andiamo avanti. Il secondo fotogramma chiave, questo, ha memorizzato le informazioni della posizione di questo pallone, di questo oggetto, meglio dire, dell'oggetto. Questo è un PNG trasparente, vedete, dietro non c'è un background solido, che vi rappresenta un pallone, una sfera, alla posizione contraddistinta dalle coordinate 1066x360. Basta. After Effects deve sapere solo questo. Deve sapere che in questo momento temporale il pallone si trova qui, in questo momento temporale il pallone si trova qui, e il resto lo fa il software. Infatti, le posizioni intermedie vengono calcolate in funzione delle informazioni raccolte dai due fotogrammi chiave, fotogramma A e fotogramma B. I fotogrammi intermedi hanno tutte le informazioni per creare quella che viene chiamata interpolazione, vale a dire, automaticamente After Effects sa dove deve trovarsi il pallone in questo momento temporale, dove deve trovarsi il pallone in questo momento temporale, in base alle informazioni raccolte dal fotogramma A e dal fotogramma B. Questi sono i fotogrammi chiave, o meglio, i fotogrammi chiave. Ora, quello che noi stiamo dicendo qui vale per la posizione, ma vale per qualunque, 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 qualunque proprietà in After Effects. Lo stesso identico principio lo utilizzeremo per ruotare un oggetto, lo stesso identico principio lo utilizzeremo per scalare un oggetto. Lo vedremo meglio nel prossimo video con degli esempi pratici. In questa sezione, in questo video, è importante che voi capiate bene cos'è un fotogramma chiave. è un fotogramma più importante degli altri, che ha un ruolo determinante nel generare l'animazione. Oh, basta così. Nel prossimo video tutorial vedremo come creare un'animazione, la nostra prima animazione, in After Effects. Faremo proprio questo. Importeremo questo oggetto, lo metteremo nella timeline, creeremo il primo fotogramma chiave, il secondo fotogramma chiave, premeremo la barra spaziatrice, e vedremo come After Effects fa tutto il lavoro per noi. Crea i fotogrammi intermedi, crea l'animazione. www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'articolo di questa lezione, se volete approfondire qualcosina. Ci sono anche altri tutorial dedicati ad Adobe Premiere, quindi fate una capatina lì, iscrivetevi a questo canale per non perdere anche i prossimi video tutorial, e cercatemi su Facebook, la pagina è sempre quella, Fabio Ambrosi. Cliccate mi piace, e teniamoci aggiornati e in contatto. Grazie mille per l'attenzione, al prossimo video tutorial. Ciao!